Sempre dal Giorgio Restaurant qui al Grand Hotel Parkers, Operazione contro la fame, con Renato Martino, che ha dedicato un suo piatto stasera a questi bambini che non sono fortunati come tanti altri nostri italiani. Sì, è stato un onore essere chiamato per questa serata e quindi siamo venuti volentieri, abbiamo dedicato questo dolce che spero sia apprezzato un po' da tutti. Sì, partecipare a eventi come questi fa stare un pochino meglio. Sì, certo, sì, in questi momenti storici un po' difficili si fa sentire più realizzati. Grazie, grazie mille. Grazie a lei.